Ha preso il via ad Alberobello in provincia di Bari il nono congresso regionale dei pensionati della CIS, un momento importante per fare il punto sulla situazione in cui versano i pensionati pugliesi e riaffermare il valore e la strategicità della concertazione sociale. Presenti i delegati in rappresentanza degli oltre 141.000 iscritti, il segretario generale della CIS Puglia Giulio Colecchia e Loreno Coli della Segreteria Nazionale. Nella sua relazione Giuseppe Santelia, segretario generale FNP CIS Puglia, ha ribadito il persistere di una crisi economica mondiale senza precedenti e per la quale non si vedono segnali di ripresa. Il governo tecnico, ha detto Santelia, ha arginato un paese alla deriva ma ha scelto il rigore solo per i lavoratori e pensionati lasciando spesa pubblica, costi della politica e evasione fiscale e contributiva quasi inalterati. Ha limitato anche la spesa sociale e sanitaria a danno dei più poveri e bisognosi lasciando che tutte le casse continuassero a godere di tanti loro privilegi. Secondo la FNP CIS Puglia è necessario sicuramente operare con equità ma anche che le forze politiche si impegnino seriamente per il bene comune. Anche il sindacato nello scenario europeo è chiamato a farsi sentire forte e bene.